Si è già fatto molto per l'informatizzazione della sanità, allo scopo di rendere più razionali e tempestive le prestazioni sanitarie. Alcuni esempi sono il fascicolo sanitario elettronico, la prenotazione online delle prestazioni sanitarie, i referti digitalizzati, le ricette e i certificati di malattia digitali. Si tratta di un mercato in notevole crescita anche in Italia, con investimenti stimati per il periodo 2013-2022 di 46 miliardi di euro. In questo contesto si inserisce anche un'interessante soluzione tecnologica per monitorare l'aderenza terapeutica dei pazienti, soprattutto se affetti da patologie croniche. Si tratta di un servizio che permette di seguire a distanza le performance dei pazienti in termini di aderenza al regime farmacologico prescritto, affidando a questi un ruolo attivo nel controllo della propria salute. Il monitoraggio dell'aderenza terapeutica è un aspetto molto rilevante in sanità. Anche il trattamento più efficace può servire a poco se non seguito correttamente, esponendo il paziente a rischi altrimenti evitabili e il servizio sanitario a un aggravio di costi per spese inappropriate. Purtroppo però si tratta di un problema non ancora adeguatamente affrontato. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, solo il 50% dei malati cronici prende i farmaci come prescritto, con percentuali variabili a seconda della patologia. I costi sociali sono enormi, quasi 200.000 morti premature all'anno in Europa, con uno spreco di circa 125 miliardi di euro. Negli Stati Uniti ogni anno circa 100 miliardi di dollari sono dissipati in ricoveri eccessivi, con uno spreco per la non aderenza di circa 290 miliardi di dollari. L'Organizzazione Mondiale della Sanità evidenzia come il problema della non aderenza sia prevenibile con interventi mirati, che determinano immediato miglioramento dello stato di salute e riduzione dei costi per il Servizio Sanitario Nazionale. Le soluzioni tecnologiche si sono dimostrate tra le più efficaci. Il nuovo servizio, oltre a monitorare e incoraggiare l'aderenza terapeutica, facilita l'interazione medico-paziente e offre un mezzo efficace all'ente finanziatore del servizio, per essere al fianco del medico e aiutarlo a ridurre la non aderenza. Il paziente è contattato anche quando deve prendere il farmaco, con frequenza variabile, a seconda delle indicazioni del suo medico. Questo servizio può essere utile anche per la verifica della qualità percepita della vita. Il contatto può avvenire via telefono con uno strumento portatile adattato ad hoc per il paziente allettato, con smartphone o tablet. Per quanto riguarda la privacy, la società che ha sviluppato il servizio assicura che in nessuna maniera entra nel merito dell'indicazione terapeutica o interferisce nel rapporto medico-paziente. Ogni medico dispone di una pagina web dedicata e protetta per la gestione dei suoi pazienti che soffruiscono del servizio e sulla quale in tempo reale verranno registrate le risposte del proprio paziente. Già utilizzato in alcune realtà nazionali, questo servizio è interamente gratuito per il paziente e gli permette di adoperare la tecnologia che eventualmente già possiede, come smartphone o tablet.